Dopo la vittoria casalinga con la San Giovannese si avvicina la sfida di domenica prossima nel campo avversario contro la capolista Robur Siena. Sono giorni di tensione perché c'è la forza data dal momento di vittoria, ma anche la consapevolezza di misurarsi con chi detiene il primato. Tuttavia, i tre punti che le separano non incidono sulla voglia del Rieti di combattere, questo lo sta dimostrando con la dovuta concentrazione durante gli assidui allenamenti. La rosa sembra essere il completo e anche il centrocampista argentino Sebastian Gai dovrebbe tornare ad allenarsi dopo la brutta contusione al ginocchio destro. Ma tra i protagonisti anche i tifosi che stanno preparando la trasferta in pullman a Siena con partenza domenica mattina alle ore 9.30 dal piazzale del Maglio Scopigno. Per quanti volessero essere parte del viaggio, ci sono ancora posti disponibili.